ecco i nostri ragazzi che vanno a esultare pioviccica a torso nudo una buona metà a torso nudo le ragazze pompone le ragazze pompone se ne sono andate fatti vedere facciamo una bella danza tutti insieme ecco si una danza tribale una danza tribale una danza tribale una danza tribale ecco il nostro presidente patrón renato tutto fare portaci l'europa presidente portaci l'europa portaci 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 l'europa presidente portaci l'europa via un bagno alla fontanella in seguimento inseguono scatto di 100 metri ecco placcaggio da rugby placcaggio da rugby sotto la fontanella sotto la fontanella il mister oh sollevate via oh ecco bravo bravo michele c'è paura che si vede la panza che non ti salta la maglietta no 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 numero che numero c'è 7 mandalo al papo oh tranquilo oh mettetevi dai dai giocavo dovete mettere con l'altra mano vicino alla macchinetta o oh mettetevi lo so fa si sveglietà mandini pure qui aspetta dopo ti partiamo aspetta a giallo ecco e adesso la doccia ascoli andò vado guarda il ministro guarda il ministro guarda il ministro guarda aspetta guarda 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 i neri lo fanno sopra a due anni guarda 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 sei un judo sei un mito di zoo vai ooooh ooooh andiamo sennò vi raffreddate non so Rigo ridammela maia se no vi raffreddate dove sta Michele dove sta Michele oh Michele dove sta oh Michele dove sta Michele ecco, bella parata si è fatta però non so ripiare splendida parata, è vera ecco, ha fatto una splendida parata mi dispiace che non è stata ripresa grande Matteo, grande ecco le ragazze bonbon pure stanno ecco è ecco le ragazze